Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del Gobbo Toscano ormai direi quasi buon pranzo ancora no però non manca sicuramente molto al pranzo di martedì 21 maggio 2024 allora oggi c'è un video nuovo inedito e importante e parliamo di un argomento che avevamo lasciato in stand by per molte settimane ma ogni tanto sapete che su questo canale trovate anche indiscrezioni e aggiornamenti per quanto riguarda non solo il calciomercato ma anche il mercato e quindi parliamo oggi di sponsor, il nuovo sponsor della Juventus mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, ditemi la vostra, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto dai state facendo un ottimo lavoro, nei giorni scorsi siamo riusciti ad arrivare ai 10.000 iscritti poi abbiamo superato i 10.100 adesso i 10.200 ci avviamo verso i 10.300 quindi mi raccomando non vi costa niente è tutto gratuito cliccate sul tasto iscriviti e diventa tutto più facile sia per voi che per me per me portare altri contenuti per voi controllare tutte le indiscrezioni possibili e poi verificarle col mondo del web detto questo parliamo dello sponsor Juventus ci sono novità novità arrivate fresche fresche e in più un ragionamento molto importante da fare che ho fatto ieri con i miei colleghi di live Audino e Drugo allora parliamo intanto del discorso del possibile rinnovo di un anno per Jeep che io in questo momento sia per quello che mi arriva sia per quello che ragiono ecco perché vi parlavo di ragionamento escluderei quasi del tutto e vi spiego subito il motivo avevate sentito no che la nuova maglia della Juve sarebbe stata presentata in occasione della finale di Coppa Italia poi probabilmente tenuta anche nelle ultime due di campionato e invece se avete notato la maglietta è sempre la stessa della stagione in corso 2023-2024 mentre altre squadre hanno già esordito con la nuova maglia detto questo tipo la Roma tipo la Roma detto questo c'è una cosa importante da dire perché non è stata ancora messa la nuova maglia e perché ci sono sono due cose da tenere di conto su cui ragionare perché ancora non è stata neanche messa in vendita la nuova maglia ma verrà messa più presto e si parla a luglio e addirittura la terza si parla di agosto o fine agosto addirittura forse inizio settembre una roba mai vista perché ancora non c'è un accordo definitivo con il nuovo sponsor nuovo sponsor sì proprio nuovo sponsor perché si parla di novità si parla di novità perché se fosse stato Jeep probabilmente il prossimo sponsor si sarebbe potuto mettere semplicemente il logo Jeep applicato sulle nuove maglie e quindi si sarebbero potute indossare già qualche partita fa però questo mi fa pensare che Jeep non sia perché se non la metti non è che dici non sai qual è lo sponsor se sai che stai contrattando per Jeep male che vada ci metti già Jeep poi se cambia se cambia dici vabbè fino a quel giorno era ancora Jeep quindi dovevamo indossare lo sponsor Jeep e invece no non è stato messo il logo Jeep sulle nuove maglie quindi si è giocato con lo sponsor Jeep con le vecchie maglie quindi lo sponsor è rimasto lo stesso ma a questo punto se c'era la possibilità anche dell'1% e Jeep rimanesse il prossimo anno si sarebbe potuto fare comunque con lo sponsor Jeep sulle nuove maglie perché non è stato messo? perché sicuramente sicuramente lo sponsor sarà un altro sarà un altro e anche a livello di impatto visivo ogni maglia ha uno sponsor che gli sta meglio o gli sta peggio quindi probabilmente non hanno voluto sciupare passatemi il termine la nuova maglia la presentazione della nuova maglia senza fare un comunicato bello sul prossimo sponsor fare le solite parolone i soliti discorsi sul sito ufficiale della Juventus abbiamo sancito un accordo triennale da x milioni di euro per le stagioni e presentano con i giocatori simbolo la maglietta con il nuovo logo il nuovo sponsor ecco quindi per questo prima cosa vi escludo Jeep cosa vi voglio dire? mi arrivano forti 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 conferme forti conferme sugli sponsor sponda Arabia Saudita Arabia Saudita o Medio Oriente quindi comunque non solo Arabia Saudita scusate mi ho sbagliato proprio di sponsor Arabi 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 in generale Medio Oriente e quali sono? siamo sempre lì siamo sempre lì c'è una possibilità un po' meno concreta ma allo stesso tempo importante abbastanza importante ancora di Etihad ma c'è una forte forte possibilità che sia Riad Riad anche perché avete visto se avete notato sulla maglietta della Roma lo sponsor principale è diventato Toyota no? come ce l'aveva una volta la Fiorentina c'entra sempre Riad nei cartelloni pubblicitari ma non è lo sponsor principale ecco perché ecco perché mi fa pensare anche che possa essere lo sponsor principale della Juventus anche se due squadre potrebbero avere lo stesso sponsor guardiamo Inter e Atalanta tra l'altro anche visivamente sembra la stessa maglietta perché sono nero azzurri tutte e due hanno la Paramount no? quindi hanno lo stesso identico sponsor ecco ora l'Inter è una cosa diversa perché vedremo che fine farà perché vedremo che fine farà oggi è il 21 ancora qua non si sa niente vediamo che succederà detto questo lo sponsor le cifre del nuovo sponsor si aggirerebbero intorno ai 40 45 milioni si parlava anche al ribasso ma al ribasso la Juventus non ha accettato perché gli era già stato proposto da Etihad e da Riad e anche da una compagnia telefonica americana 33 35 milioni di euro ma la Juventus ha detto aspettiamo poi vi faremo sapere perché aspettano perché aspettano di ufficializzare anche il prossimo allenatore aver raggiunto ovviamente gli obiettivi prefissati e quello lo sappiamo sono già un trofeo in bacheca e la partecipazione a tutte le prossime competizioni quindi un botto mondiale per club Champions League Supercoppa Italiana Campionato Coppa Italia e chi più ne ha più ne metta quindi un bel piatto ricco per gli sponsor che vogliono investire sul mondo Juventus ecco che la Juventus cercherà di sfondare il muro dei 40 milioni proprio per cercare di rientrare il prima possibile nelle perdite di bilancio degli scorsi esercizi senza dover trascurare tanto il calciomercato e sì perché di calciomercato si deve parlare perché è molto connesso al discorso dello sponsor a seconda di quanti soldi arriveranno ovviamente il mercato potrà essere più o meno importante perché se ti danno 40 milioni l'anno hai ogni anno 40 milioni o almeno ne puoi prendere 20 milioni da mettere sul mercato se te ne danno 30 ne hai la metà 15 quindi cambia sostanzialmente cambia cambia lì cambia il piazzamento a fine campionato cambia tra il terzo e il quarto posto 5 milioni di euro tra il terzo e il quinto 8 milioni di euro quindi diciamo che si sta aspettando di avere tutto un pacchetto completo quindi dovremo aspettare ancora una partita col Monza per vedere dove arriveremo in classifica se davanti o dietro il Bologna se davanti o dietro l'Atalanta o se davanti o dietro tutte e due dobbiamo aspettare ma le notizie che mi arrivano privatamente sono molto interessanti perché la Juventus sta lavorando bene sta aspettando e alla proposta di 33 35 milioni dei vari sponsor proporrà un rilancio e dirà bene andrà da tutte e tre o quattro o cinque che sono e gli dirà chi mi dà 42 si aggiudica il main sponsor sulla maglietta per farvi un esempio 42 è una cifra così ipotetica che dovrebbe essere quella che si aggira più vicino alla realtà ecco dal momento in cui verrà data una risposta positiva chi prima arriva meglio alloggia perché fondamentalmente sono tutti sponsor molto importanti e di prestigio che fanno comodo la Juventus e che fanno comodo soprattutto quelli del mondo arabo per farsi conoscere sempre di più nel panorama calcisti europeo e nazionale italiano sia dalla parte sponda americana per riprendere un po' di credibilità a livello economico come paese come Stati Uniti d'America ecco l'Occidente che torna ad essere prepotentemente importante sul calcio anche sul sul marketing sui top club europei e mondiali quello che è in questo momento la Juventus nonostante i risultati sportivi ultimamente siano stati più più negativi del solito detto questo detto questo bisogna come vi ho detto aspettare ancora almeno la prossima giornata bisognerà aspettare presumibilmente l'ingresso nel mese di giugno e poi verrà penso presentato il tutto ci sta dopo il 2 giugno da quello che mi dicono tra il 3 e il 5 giugno dovrebbero presentare il nuovo sponsor ora queste sono date ovviamente fittizie prendetele con le pinze però questo è quello che ci riportano io credo che la Juventus possa anche alla fine accettare una sponsorizzazione americana dato che in America sappiamo che quest'anno probabilmente cambieranno tante cose anche a livello politico quindi vediamo un po' quello che succederà giugno un mese importantissimo fondamentale quindi comincerà a luglio poi il calciomercato la Juventus dovrà essere pronta dovrà avere tutti i conti in ordine e sapere giuntoli quanti soldi potrà utilizzare per il calciomercato e partiamo per una stagione speriamo ma io confido in questo perché l'ottimismo è il profumo della vita come diceva il buon nonnino al bambino Gianni Gianni l'ottimismo vola l'ottimismo è il profumo della vita e poi arriva il piccione che gli ha ogni capo ma detto questo lasciamo perdere mi raccomando vi chiedo ancora un'ultima volta per stamattina un'iscrizione al canale una condivisione un mi piace un commento e attivate la campanella per non perdervi i prossimi contenuti sul calcio calciomercato economia anche importantissima in questo momento di transizione di sponsor quindi fate la vostra parte sostenete il gobo toscano non vi chiediamo soldi quando voi ci fate le donazioni o vi abbonate siamo contentissimi ma non è quello la mission del canale la mission del canale è cercare di crescere il più possibile e insieme di creare una community in cui si possano scambiare idee mi dispiace anche di un fatto ieri un signore si è sentito il tifoso della ferentina ha toccato perché dice qui non si può parlare avevi sempre detto che nel live si può parlare di calcio si può parlare di tutto anche se non siamo gioventini io ripeto ribadisco assolutamente sì ma non voglio più parlare del vecchio cioè basta ma per una presa di posizione mia è inutile fare le diatribe tra gli allegriani e gli anti allegriani a me di allegri come se di lippi di capello di trapattone non me ne frega niente in questo momento perché in questo momento dobbiamo pensare alla juventus che siamo e la juventus che saremo è inutile guardarci indietro il problema del tifoso medio è sempre guardarsi indietro e dire ah ma quella volta c'era quello ecco basta andiamo avanti che si chiami Conte che si chiami Tiago Motta che si chiami Montero che si chiami Jurgen Klopp Zinedine Zidane o Pep Guardiola andiamo avanti superiamo questa barriera e cerchiamo finalmente di tifare la juventus e ricominciare a parlare di calcio di moduli di tattica di euro goal di partite europee e quant'altro fino alla fine forza juve fino alla fine gobo toscano ragazzi mi raccomando iscrizione al canale che è tutto gratuito ciao